siamo con dario sanzone appena finito lo spettacolo qui alla festa di san caldo sono ancora caldo e sudato però è più bello perché vuoi continuare a trasmettere le emozioni le stesse emozioni che hai dato a questo pubblico allora che serata è stata dario ma innanzitutto una serata è stata una festa e la musica è ancora una festa e la musica perché questa sera un po di generazioni si sono incontrate sul palco tra me enzo gragnaniello e cesi e quindi una festa festa vera e propria infatti io dicevo proprio questa di san michele però dicevo proprio questo avere spettatori di tutte le età di tutte le fasce una festa che mette insieme tutta la famiglia però c'è anche la questo questa possibilità di contaminare la musica magari con un pubblico più adulto proposta ad un ragazzo più giovane insomma cari mani ma giovane fino a 70 anni che le ho problemi no in realtà io penso che un certo tipo di musica che punta a far vibrare le frequenze del cuore non ha un'età precisa ed è quello che poi è legato alle nostre radici alle cose più arcaiche e quindi credo che questo sia quello che che succede stasera che succede in tutte le piazze quando si incontrano degli artisti veri credo posso dirlo escludendo anche me senza volerlo dire da solo è così che è andata questa sera quindi assolutamente non è così artista anzi artisti come te ce ne vorrebbero molti molti di più anche però ecco una cosa ce la vuoi raccontare diciamo io io parlavo di anche sulla difficoltà di rimanere di conservare il successo vedere le persone che ascoltano fino alla fine non è perché magari dopo c'è ancora un altro artista ma è perché si apprezza quello che si sta ascoltando e questo dovete chiedere al pubblico noi siamo solo servitori ma io mi sento un servitore nel senso che quel palco deve diventare una casa per tutti le parole devono suonare per tutti e devono essere soffiate o urlate per tutti quanti quindi per me è sempre una missione quello di salire sul palco non è mai un lavoro vero e proprio anzi sono i momenti più belli nella mia esistenza cioè il resto è veramente un burdello e quindi sono fortunatissimo ad avere una terapia così potente come quella che è il palco e che non sia scontato le persone ti seguito ti seguino è una cosa secondo me a fasi nella vita di un artista perché è così l'ho visto in altri e noi siamo pronti a tutto perché alla fine quello che deve vincere sempre la canzone la musica e il voler fare una comunione con le persone non solo una festa una comunione significa anche trasmettere altre altre emozioni alle persone non per forza deve essere solo la gioia ma anche riflettere in questi momenti riflettere in questi giorni in questi anni che stiamo vivendo è molto importante ti lasciamo ai tuoi bordelli e ci rivediamo sul palco da ciao a tutti grazie grazie a te